Salve a tutti amici Marco Sports, ciao a tutti e ciao al video mi sono Vittanino e sono un del ciro e curioso insomma diventerai il nuovo profettorio di questo vlog e cambierai il nome e la faccia tua stupido spara canale canale vado al mondo li abatterò tutti i pinguini ciao non sono impazzito i miei amici di google plus capiranno Salve a tutti amici di Marcosbox, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo pensoso. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a commentare a caldo con voi la notizia che ho appena postato sul blog, ovvero la presentazione presso la Tizen Conference che si sta tenendo in questi giorni negli Stati Uniti, della nuova versione di Tizen OS, Tizen OS 3. La particolarità di Tizen OS 3 è che per la prima volta è stato presentato ufficialmente su un device, un computer normale, non quindi uno smartphone, un tablet, eccetera. Come ben saprete, Tizen è un sistema operativo basato su Linux, sviluppato attualmente da Samsung e Intel, che vedrà la luce nei prossimi mesi, si concretizzerà in un device realizzato appunto da Samsung con un processore Intel, uno smartphone che sarà in grado di eseguire applicazioni native Android e Artrico Succia. Questo sistema operativo, se ne sta parlando da molto tempo, pare promettere bene, anche se io ho paura che faccio la stessa fine che ha fatto Bada OS. Bene, come dicevo in apertura, la particolarità è che adesso presso la Tizen Conference è stato finalmente pubblicizzato una versione desktop di questo sistema operativo. Tizen OS 3, così come è stato chiamato, non è altro che Tizen applicato con GNOME 3, GNOME 3, per gli amici, dovremmeno l'antirlo chiamerlo così, perché evitiamo di fare con... perché se no mi incarto il corpo, non c'è tutto il resto, vabbè. No, lo chiamo così, quindi rompete le scatole. E dicevo, con GNOME 3 è la presenza di una versione modificata di GNOME Shell. Questa versione modificata di GNOME Shell, che prende il nome di Tizen Shell, è appunto una versione moddata della Shell con alcune cose che sono state tolte, come ad esempio i desktop virtuali, con l'aggiunta di altre. La possibilità di aggiungere widget su desktop, widget scritti appositamente per Tizen, che sono widget, per esempio, quello di Facebook, quello del Meteo, quello di Twitter, sono widget scritti in JavaScript sfruttando le api di GNOME 3. Altre aggiunte che sono state fatte, ad esempio è stata aggiunta una barra con le applicazioni preferite. Nel video possiamo vedere Shotwell, File, vediamo anche in esecuzione Steam e altre cosucce. Quindi praticamente hanno preso Tizen OS, hanno preso GNOME, hanno preso il parco applicazioni di GNOME, ne hanno aggiunte qualcuna, qualcuna specifica, e hanno modificato GNOME Shell per meglio adattarla e realizzare un ambiente, per così dire, non troppo alieno per chi proviene dal mondo Windows. Perché, come ben sapete, il problema di GNOME Shell è che la sua interfaccia è un po', lascia un po' spiazzati per quegli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo modo di gestire il desktop. Io sono uno di quelli che ho un rapporto conflittuale con GNOME Shell. Non l'odio, come vi è stato detto da alcuni, solo che ho difficoltà a farmelo digerire, diciamo. Sarai che il mio computer è un 14, ma vabbè. Come dicevo, è bella, sono rimasto spiazzato da questa presentazione, perché hanno mostrato le potenzialità di Linux al grande pubblico. Adesso bisogna vedere quello che farà Intel e quello che farà Samsung. Se questo si risulterà soltanto un esercizio di stile, o se magari questo TZEN OS riuscirà ad imporsi, grazie appunto ai soldi di Samsung e di Intel, riuscirà a ritagliarsi una nicchia nel mercato dei sistemi operativi desktop. Io francamente nutro alcuni dubbi, perché, come ben sapete, tra Windows da una parte, OSX di Apple, che sta ritagliando sempre più fette di mercato, sempre più quote di mercato, soprattutto tra gli scontenti, ad esempio, di Windows 8, e il timido approccio che sta facendo, cioè timido, tra virgolette, che sta compiendo Google con il suo Chrome OS, che sta cercando in tutti i modi di farlo passare come un sistema operativo innovativo e quant'altro adatto a tutti gli usi. Però, come avete potuto modo di vedere, sarà che forse in Italia abbiamo problemi, perché, come ben sapete, Chrome OS richiede una connessione sempre attiva, in Italia facciamo leggermente schifo sotto questo piano, sotto questo punto di vista, insomma, comunque, vedremo se riuscirà, se riuscirà, accoppiata Intel Samsung, a proporre al grande pubblico questo sistema, questo sistema operativo basato su Linux. Per noi, per noi pinguini, è tutto, tutto di guadagnato, perché, come, se abbiamo dei grandi big che investono, questi, non possiamo che avere un ritorno positivo, da tutto ciò. Speriamo, vediamo, se solo se fioriranno. Quello appunto che voglio chiedere a voi lettori, con questo video, è, secondo voi, avrà un futuro questo, questo sistema operativo, o è soltanto un esercizio di stile, oppure magari, verranno fatti degli investimenti, che però naufragheranno in maniera inesorabile, dopo poco, costringendole Intel e Samsung, ad abbandonare l'idea di, di mettere sul mercato, un sistema operativo di questo genere. Bene, adesso ho concluso, con questa, ci vediamo la prossima volta, con una, spero, video recensione, che mi sto organizzando, sperando che vada tutto bene. Un saluto alla prossima, lunga vita e prosperità a tutti, e tanti saluti anche dal, pingui da cui, cioè dal pingui da cui, dal terfino curioso. Ciao ciao.